Marcello Del Duc arriva all'ultima giornata di regolazione per la cosa a Fiorentini che va a giocare nella vasca del Latina però tutto ormai deciso, i peloppo sono arrivati per la vostra squadra, una gara che rappresenta un test in vista delle finali in promozione Sì, per parlare dell'ultima partita noi l'affronteremo sempre con il nostro spirito, il programma di crescita quindi andremo per vincere forse dare un po' più spazio alle più giovani però sempre con l'obiettivo di vincere sarà un po' un campo ostico perché giochiamo all'aperto dove non siamo abituati però come dicevi ormai il percorso è fatto, cercheremo di chiudere in bellezza e poi ci aspetterà purtroppo un mese di fermo perché le finali playoff si dovrebbero fare fine giugno e quindi abbiamo un problema di, come è stato un po' tutto l'anno, di trovare uno sparring per che qualcuno ci possa allenare, far giocare di più, quest'anno abbiamo giocato pochissimo infatti molte volte ci manca un po' di ritmo partita perché purtroppo abbiamo meno spazio alla vicina comunale e ci alleniamo tra noi, quindi speriamo di trovare qualcuno che ci possa far crescere un pochino nel ritmo di gioco quindi è arrivata questa qualificazione per la coser Fiorentini sicuramente il primo passo è stato fatto, si vuole cercare di andare in sera 2 magari con un pochino più di esperienza rispetto all'anno scorso sì, pensiamo di più, abbiamo l'aiuto di qualche giocatrice più esperta però c'è sempre l'inserimento in un bel blocco di ragazze giovani andremo certo più convinti, più conservati nei nostri mezzi